Buongiorno a tutti, grazie per essere intervenuti. Oggi in giunta abbiamo approvato il piano regionale di infrastrutture che chiaramente è un piano importante che conferisce una visione di sviluppo delle infrastrutture a tutto il territorio regionale. Si tratta di un piano che chiaramente cerca di rispondere anche alle esigenze e a un riequilibrio di cui il nostro territorio è sicuramente vittima, che cerca di aprire e interconnettere il nostro territorio al resto dell'Italia, all'Europa e anche ai grandi circuiti internazionali. Ma non solo guarda ad una visione di sviluppo a circuiti internazionali sulle grandi traiettorie, ma cerca di individuare e realizzare anche soluzioni per il potenziamento dei collegamenti intervallivi, dei collegamenti diciamo tra distretto e distretto e soprattutto vedo con molto piacere la individuazione della pedemontana delle Marche, che a mio avviso insieme ad altre traiettorie è quella che più può essere oggetto di un vantaggio di natura economica che potrebbe rafforzare il nostro entroterra, le nostre aree interne e dare loro una prospettiva, non solo economica e sociale ma anche nei servizi. Poi chiaramente le cose sono tante, si parla di autostrada, si parla di salaria, si parla di fanno grosseto, si parla di aeroporto, interporto, si parla di porto, che è un'altra grandissima opportunità dello sviluppo per le Marche in una prospettiva anche dell'Adriatico Centrale, si parla di regione come hub per le merce e per i passeggeri, quindi c'è una volontà, una voglia sicuramente di proiettare la nostra regione nel futuro. Io non vado oltre perché il grande lavoro, voglio fare una semplice precisazione, tante di queste opere saranno oggetto di finanziamenti e quindi di procedure che arriveranno a cantieri a breve. Queste opere hanno fonti di finanziamento diverse, alcune sono oggetto di finanziamento, se volete, anche proprio della regione Marche che individua con risorse proprie la realizzazione di opere strategiche, altre sono oggetto di finanziamento con i fondi europei, altre di fondi ministeriali e nazionali, altre con il piano nazionale di ripresa e residenza. Quindi diciamo che è un mix di fonti di finanziamento che alla fine consentirà la realizzazione e il completamento di gran parte delle opere, di gran parte di tante delle opere che sono incluse su questo piano. Poi per altre c'è il contratto di sviluppo di ANAS, il contratto di ferrovie, il contratto di autostrade, ma quelle fanno parte di un altro approccio perché chiaramente l'allargamento e il potenziamento o comunque quello che concerne autostrada deve farlo autostrada, quindi deve farlo società autostrade, ASPI, quello che concerne ad ANAS lo deve fare ANAS e quello che concerne ferrovie e autorità portuali deve farlo ferrovie e autorità portuali, che sono soggetti terzi con cui noi interloquiamo e che però devono rifarsi a questo progetto. Quindi quando parliamo di PNRR non parliamo di tutto il piano, parliamo di una parte del piano. Quando parliamo di fondi sviluppo e coesione parliamo di una parte delle opere, lo dico perché fra qualche giorno potrà esserci la firma col Governo nazionale di fondi sviluppo e coesione e non è che se un'opera non è inclusa sullo sviluppo e coesione non sarà realizzata, ma sarà realizzata con un'altra fonte di finanziamento. Salutando, ringraziando l'assessore, l'architetto Goffi e tutta la struttura che ha lavorato e tutti coloro che hanno dato un contributo importante nella concertazione, io ringraziando loro vi ripasso la parola, passo la parola all'assessore per l'illustrazione del piano. Grazie Presidente, grazie a tutti gli intervenuti, il Presidente ha ringraziato tutti coloro i quali hanno lavorato sul piano, io ringrazio il Presidente per la visione e l'indirizzo che ha dato alla Giunta regionale e anche all'assessorato che ho l'onore di ricoprire su delega del Presidente. Il Presidente ha fatto cenno dei cardini sui quali si basa il piano. Allora, che cos'è Marche 20 e 32? Facciamo subito chiarezza sul contenuto e la funzione del piano. Marche 20 e 32 è lo strumento strategico che disegna il futuro della mobilità della nostra regione, il futuro della mobilità delle merci, il futuro della mobilità delle persone, in tre step, 2027, 2032, oltre 2032. Perché la regione ha bisogno di una visione per guardare al futuro e per abbandonare quel passato che nel 2018, se non erro, ha visto la nostra regione essere dall'Unione Europea classificata come regione in transizione, passando da regione sviluppata a regione in transizione. Perché mancava una visione infrastrutturale, un piano strategico, un documento strategico che programmasse il futuro della nostra regione. Con questo dico perché un documento strategico? Perché noi non vogliamo collegare due comuni o più comuni della nostra regione. Noi vogliamo collegare la nostra regione alle grandi visioni strategiche nazionali ed europee. In questo colgo l'occasione per salutare il Presidente di Svem, perché è qui sviluppo delle marche all'interno della dimensione nazionale e della dimensione europea. D'altronde, il Presidente prima diceva la grande condivisione. La grande condivisione perché è un piano che nasce dal basso, con la condivisione con i territori, con la condivisione con le categorie, con le forze sociali ed economiche, ma anche con la grande partnership di alcune strutture della nostra regione. Penso a Svem e penso anche a tanti altri studi di cui ci siamo avvalsi insieme ai nostri esperti per la costruzione del piano. Quindi dentro Marche 20 e 32 troviamo le infrastrutture stradali. Qualcuno di voi ci potrà ricordare del master plan delle infrastrutture stradali. Perché abbiamo dovuto realizzare col Presidente un documento leggero sin dal nostro insediamento? Perché non avevamo un piano delle infrastrutture che disegnasse da un punto di vista stradale l'evoluzione della nostra regione verso il 2030, il 2032 e il 2050. Quindi siccome per il piano avevamo necessità di maggiore tempo di elaborazione, abbiamo adottato in precedenza un documento snello di tipo anglosassone che poi è confluito nel piano delle infrastrutture. È stato il primo elemento da cui siamo partiti per quanto riguarda la componente delle infrastrutture stradali, a cui però seguono anche le infrastrutture ferroviarie, altrettanto importanti, se non più importanti in una visione internazionale rispetto alle infrastrutture stradali, il trasporto pubblico locale che fa parte del piano, la mobilità ciclabile, e ho lasciato da ultimo, ma per importanza perché noi vorremmo partire dalla piattaforma logistica naturale della nostra regione che si tuffa sul mare Adriatico con porto, aeroporto e interporto, perché sono il nodo che fa della regione Marche un unicum sull'Adriatico che rappresenta il cuore di questo piano. Infatti i quattro obiettivi fissati dal piano Marche 32 che vedete proiettati, credo alle mie spalle, sono molto chiari. Ci muoviamo su quattro obiettivi principali. riconnettere Ancona, il nostro capoluogo di regione, e ha un senso Ancona, proprio perché lì si basa, lì è presente la piattaforma logistica naturale della nostra regione, Ancona alle Marche e quindi le Marche all'Italia e all'Europa. Primo obiettivo che si pone il piano. Il secondo obiettivo è quello di costruire, appunto partendo da Ancona, da quel polo logistico di cui parlavamo, un nuovo corridoio di agonizia, tanti quindi europeo, di connessione dell'Europa, dell'Est e del Medio Oriente con il Tirreno e quindi la penisola iberica e i corridoi europei, in modo particolare il corridoio atlantico. Lo vediamo la particolare congiuntura socio-economica mondiale, molto particolare, sono scoppiate anche alcune guerre, e abbiamo visto l'importanza di corridoi per il traffico delle merci e delle persone. Noi siamo in una posizione logistica favorevole per poter cominciare una contrattazione con l'Unione Europea da qui al futuro per attivare questo grande corridoio, lo vedremo poi in una piantina, questo grande corridoio da cui poi parte tutta la diramazione della rete stradale e ferroviaria marchigiana verso il resto d'Italia e il resto d'Europa. Poi creare una rete infrastrutturale, lo accennava prima il Presidente, l'autostrada dei territori interni, la Fedemontana, il sistema Fedemontano e Intervallevo, che trasformi la rete stradale marchigiana da una rete stradale a pettine a una rete stradale a maglia. Quindi le nostre quattro grandi superstrade marchigiane, a partire da sud la Salaria, la strada statale 77, Civitanova-Foligno, la strada statale 76, Ancona-Perugia-Roma, la E78, la cosiddetta Fano-Grosseto, con le due assi longitudinali, l'autostrada 14, per la quale chiediamo la terza corsia al sud delle Marche e il completamento della grande autostrada dei territori interni che unisca senza soluzione di continuità la capitale o il patrimonio mondiale del rinascimento, patrimonio unesco urbino, con Ascoli-Piceno. Questo è il nostro obiettivo, oltre a Ascoli vogliamo andare sulla 24, quindi per collegare il sud delle Marche tramite l'autostrada già esistente nel territorio abruzzese con Roma. Infine, ultimo obiettivo dei quattro, realizzare infrastrutture moderni ed efficienti per garantire lo sviluppo sostenibile. Troverete nel piano, che sarà a disposizione per tutti i giornalisti, troverete nel piano dei nostri studi e alcuni studi di ANAS che dimostrano come costruendo in maniera puntuale nuovi assi stradali strategici preserviamo l'ambiente. Che cosa significa? Che diminuiamo la percorrenza delle strade storiche che abbiamo nella nostra regione, riducendo i chilometri percorsi, ma raggiungendo gli stessi obiettivi, aumentando la sicurezza dei cittadini, la velocità di percorrenza o di tempo di percorrenza da un punto all'altro, dal punto di partenza al punto di destinazione e abbattendo fortemente la CO2 emessa nell'aria. Sono, fuori dai centri abitati ovviamente, sono elementi molto importanti. Tra l'altro ringrazio il collega Stefano Guzzi perché seguendo l'ambiente alcune parti le abbiamo studiate anche gomito a gomito proprio per rispondere ai concetti di sostenibilità ambientale che ricordiamo, se non diventano ideologia, sono dei concetti che vanno curati con grande attenzione, il che significa con gli altri due pilastri, quello della sostenibilità sociale ed economica, si fondono insieme e creano sviluppo nella nostra società. I quattro concetti chiave sono quelli appunto della sostenibilità, della sicurezza, dell'intermodalità e dell'interconnessione delle nostre infrastrutture viarie, ferroviarie, del porto, l'aeroporto e l'interporto e come diceva il Presidente, le risorse disponibili. Già con questo piano, mettendo a sistema le risorse, abbiamo già 4 miliardi di euro da qui al 2027 e 2032 disponibili da mettere a terra sulle infrastrutture regionali. Un investimento davvero molto importante di cui forse non si aveva consapevolezza nella nostra regione e sul quale il Presidente Acquarogli ha lavorato molto intensamente. Poco fa parlava di altri centinaia di milioni che sono in questo caso già considerati nei 4 miliardi sui quali ha lavorato il Presidente, ha lavorato la Giunta regionale per aumentare ancora quegli investimenti che andranno a colmare il gap infrastrutturale della nostra regione. Connettere, dicevamo, Ancona le marche, le marche all'Italia e all'Europa. Allora costruire questo grande corridoio Tenti-Diagonale che parte dai Balcani e raggiunge poi anche il Medio Oriente sbarca nel porto di Ancona e si collega verso Civitavecchia con la ferrovia Roma-Ancona ma si collega anche verso i porti di Piombino, Livorno e La Spezia tramite la E78 Fano-Grosseto. Ovviamente valorizzando un altro grande risultato raggiunto dalla Giunta Acquarogli dal nostro Presidente, il prolungamento dei corridoi Tenti longitudinali da nord si fermavano a Ravenna, oggi arrivano a Dancona e grazie all'accordo con le regioni a sud delle marche, quindi gli amici abruzzesi, gli amici molisani e pugliesi, ambisce ad arrivare a Bari. Ecco che cosa significa riconnettere marche al resto del mondo. Andando avanti, abbiamo quasi finito questa presentazione, poi chiederei all'architetto Goffi di andare nel dettaglio di alcune carte per vedere questa connessione della nostra regione con il resto d'Italia e d'Europa, vedete i corridoi Tenti. In questa carta, che poi vi metteremo a disposizione, vedrete che dalla città di Ancona, dal porto di Ancona, partono due corridoi diagonali. Il grande corridoio diagonale che unisce i Balcani in quella fitta rete di strade europee, con l'altra ricca rete di strade, saluto la collega Chiara Biondi che ci ha raggiunto, l'altra fitta rete di strade e corridoi europei che stanno in Francia, pensiamo al porto di Marsiglia, da cui partono delle vie di comunicazione molto importanti di merci e persone, e al porto di Barcellona, dove partono e dove si ricollegano altri corridoi europei Tenti. Quindi questa linea diagonale che noi proponiamo all'Unione Europea con questo piano, entreremo in dialogo ovviamente con le nostre strutture, una di queste è Svem, con l'Unione Europea per cominciare ad attivare il discorso sulla costruzione del corridoio Tenti Diagonale che passa per Ancona. Il passaggio dell'attuale struttura di collegamenti da Pettine ad Una Maglia nascono proprio dalla costruzione di questo corridoio diagonale che parte da Ancona e quindi andiamo a completare la Fano Grosseta Nord e la Salaria Sud e le colleghiamo in maniera ininterrotta da Carpegna sopra Urbino fino ad Ascoli Piceno e poi a Teramo con la nostra autostrada di territori interni il sistema pedemontano intervallivo. Se passiamo alla carta successiva ecco vediamo i collegamenti. Vedete come pensare alle marche in collegamento con le altre regioni dell'Italia centrale. La grande questione della terza Italia molto spesso il dialogo sulle infrastrutture è polarizzato fra le infrastrutture del nord e le infrastrutture del sud. Noi poniamo l'attenzione tra la grande opportunità dell'Italia della terza Italia dell'Italia centrale dove la regione Marche è protagonista e quindi vedete che quel sistema che prima vi raccontava il presidente dell'autostrada del sistema pedemontano intervallivo dell'autostrada col pezzettino rosso al sud delle Marche perché vogliamo la terza corsia anche nel sud delle Marche si incrocia con le quattro superstrade e le quattro superstrade non si fermano nel territorio marchigiano ma si ricollegano ai grandi collegamenti dell'Italia centrale che portano verso il nord e ai porti del terreno quindi un piano delle infrastrutture che pensa le Marche sì ma pensa l'Italia alla terza Italia all'Italia centrale e ai grandi traffici di merce di persone europee. Nella carta successiva vedrete come l'attenzione di quella grande rete stradale e anche una grande attenzione verso la rete ferroviaria quella rete stradale noi la riproponiamo nel piano infrastrutture anche come rete ferroviaria quindi si riparte dal triangolo logistico delle Marche Porto Aeroporto Interporto e con il treno noi raggiungiamo tutte le Marche da Ascoli Piceno a Porto Dascoli salendo verso Civitanova abbiamo l'Adriatica dove noi chiediamo l'alta velocità e ovviamente lungo la linea adriatica utilizzando l'attuale rete ferroviaria come metropolitana di superficie in arretramento secondo lo studio che il Presidente Acquaroli ha ottenuto dal Ministero delle Infrastrutture io qui vorrei ringraziare anche il Vice Ministro Galeazzo Mignami insieme agli altri componenti del Ministero delle Infrastrutture perché ha garantito questo studio che noi chiedevamo da tempo per l'alta velocità e l'alta capacità che colleghi anche la nostra regione con le regioni del nord e le regioni del sud e poi l'anello ferroviario fa scaricare traffico a tutte le nostre cinque province dove sulla Roma Ancona che vogliamo anch'essa ad alta capacità e ricollegare Urbino con Fano tramite la linea ferroviaria e finalmente Urbino con Roma con il tratto Urbino Cagli Pergola Sassoferrato Fabriano questo è il grande progetto che ci poniamo in quei tre scenari che vi dicevamo scenario 2027 scenario di riferimento 2032 ma anche guardando il futuro della nostra regione oltre il 2032 quali sono i punti di forza e dei punti di ebolezza della nostra regione perché abbiamo fatto anche un'analisi SWOT punti di forza del sistema la posizione di centralità e di accessibilità della nostra regione la piattaforma logistica lo dobbiamo ripetere a sfinimento perché è veramente una grande ricchezza della nostra regione porto, aeroporto, interporto qui mi permetto di congratularmi con il presidente perché è l'assessore al porto, all'aeroporto all'interporto avevamo delle infrastrutture in via di smantellamento oggi abbiamo delle infrastrutture competitive la modernizzazione delle reti opportunità dei fattori esterni gli investimenti in infrastrutture abbiamo visto quali sia già la mole dell'investimento sulla nostra regione la potenzialità del sistema economico marchigiano che ha retto anche all'urto delle grandi crisi che hanno colpito la nostra regione il patrimonio culturale e paesaggistico i punti di debolezza ci sono ovviamente dei punti di debolezza che sono il disegno non completato della maglia viaria fermo da decenni nella nostra regione la non adeguatezza della rete viaria storica pensiamo in questo momento mi viene in mente nel mio territorio la Flaminia la Contessa non praticabili perché è stato smantellato un viadotto in quanto da 70 anni non riceveva manutenzione la carenza della rete ferroviaria non approfondisco ulteriormente ma non avendo l'alta velocità e non avendo ancora il raddoppio della Roma Ancona sul quale però si stanno aprendo le buste della gara che permetteranno a stralci il raddoppio della linea ferroviaria diventerà tra poco un punto di forza le minacce dei fattori esterni trend di invecchiamento della nostra popolazione la crisi economica ed energetica globale l'incremento dei costi delle materie prime il logo l'avevamo già presentato in altri momenti in altre conferenze stampa e il risultato è una rappresentazione plastica di una strategia flessibile fluida proprio come simboleggiano le tessere delle forme morbide che si incastrano alla stregua di un mosaico in continua evoluzione perché diciamo questo perché Marche 32 è una legge della nostra regione ma è una legge della nostra regione flessibile ossia un piano processo già da lunedì il presidente lo sa noi ricominciamo il nostro giro nei territori inizieremo da Ancona proprio per la piattaforma logistica naturale che insiste sul capoluogo di regione incontreremo i sindaci perché è un piano flessibile in continuo adeguamento a secondo delle esigenze del territorio il mondo sta cambiando velocemente non ci possiamo permettere di inseguire ma dobbiamo essere consapevoli che dobbiamo stare al passo con i cambiamenti che vive la nostra società partecipato i documenti delle categorie che ritrovate all'interno del piano i documenti ovviamente strategici delle nostre società dicevamo in precedenza Svem i documenti strategici studiate anche con Anas e rete ferroviaria italiana quindi è un piano non imposto dall'alto ma che nasce dal basso infine è un piano disponibile a tutti dopo vi invito ad accedere col vostro telefonino al QR code che abbiamo inserito in ogni piano qui potrete vedere tutte le evoluzioni del piano ma anche avere sul vostro smartphone la disponibilità del piano costante in ogni luogo voi abbiate bisogno di consultarlo provateci e vedrete che la regione si apre al cittadino in una forma di grande partecipazione io vi ringrazio per l'attenzione che dico tutta la stampa sta ponendo sulle infrastrutture della nostra regione perché siete la nostra forza una comunicazione efficace fatta insieme significa mandare un messaggio positivo al governo nazionale e all'Unione europea sulla integrazione della regione Marche nel centro Italia nei grandi corridoi nazionali ed europei grazie io direi all'architetto Goffi se è disponibile di indicarci in linea di massima aprendo le piante quelli che sono i collegamenti che abbiamo studiato insieme ai territori dico alla stampa salutiamo il presidente che ha un altro impegno proseguiamo dopo l'intervista del presidente e allora proseguiamo comunque e troverete nell'allegato uno degli interventi indicati misura per misura sia gli interventi stradali che quelli ferroviari che quelli che realizzeremo sui porti nonché quelli ciclabili li abbiamo citati poco perché nella grande mobilità nazionale ed europea sono importanti soprattutto gli interventi sulla piattaforma logistica naturale e ovviamente sulle strade e sulle nostre ferrovie prego architetto sì grazie se potete proiettare la scheda delle strade bene mi giro preferisco guardarla qua allora come vedete questa è concentrata chiaramente sulle marche era già stata presentata prima il collegamento con le regioni circostanti cioè quindi con Umbria Toscana Emilia Romagna D'Abruzzo e Lazio la planimetria indica le strade sono indicati con colori diversi perché ai colori corrisponde una tempistica quindi diciamo il verde sono le infrastrutture che sono in via di realizzazione dovranno essere realizzate entro il 27 in giallo quelle del 32 in rosso oltre quindi il piano ha una sua programmazione a lungo termine questo è un dato importante perché permette di far sì che tutti gli investimenti come dicevamo prima di circa 4 miliardi che stanno avvenendo avvengono all'interno di un disegno e quindi non sono degli elementi spot ma stanno dentro il disegno sotto questo profilo per quanto riguarda la parte carrabile possiamo dire in maniera sintetica che abbiamo almeno tre temi innanzitutto abbiamo indicato la regione ha indicato la necessità di avere una strada chiamiamola pedemontana in prossimità delle aree montane che da nord dalla Fano Grosseto da Carpegna scende passando poi per Fossombrone per Cagli per Fabriano fino ad arrivare in prossimità di Ascole a Mozzano in questo caso parte delle opere sono già attivate sono già in fase di cantiere parte sono in progettazione e parte sono finanziate quindi voglio dire in questo caso là come si diceva prima c'è una trasformazione da uno schema pettine che è quello tradizionale delle marche dove tutta l'avviabilità si basava sull'adriatica e poi c'erano dei pettini che entravano all'interno invece forse l'obiettivo più importante scusate non so cosa c'è vabbè uno degli obiettivi più importanti è proprio la realizzazione la progettazione della pedemontana che attraversa tutte le marche che arriva fino all'abruzzo oltre a questo poi abbiamo un tema invece dell'intervallive cioè altrettanto importanti sono le strade che collegano le varie valli che sono tra la zona montana e la zona e la zona e l'adriatico e la costa quindi abbiamo a nord la Fossombrone Pergola Sarasantabiongo abbiamo la 502 prevista e finanziata da Iesi a Cingoli fino ad arrivare a San Severino e poi tra San Severino e Tolentino è già in progettazione e da parte dell'Aquadrilatero e poi abbiamo la Mezzina lungo la costa l'aspetto fondamentale è che si sta affrontando un tema che è un tema che ci portiamo dietro da decenni quello di far sì che la statale attuale che per la maggior parte della costa diventa una strada urbana di per sé impercorribile quindi diciamo abbiamo solo l'autostrada ma in alcuni tratti importanti il piano prevede la realizzazione delle varianti le statali quindi vuol dire un po' anche come valeva per la Pedemontana perché se ci immaginiamo a Matelica il tratto già realizzato Matelica adesso non ha più il traffico pesante perché come dire passa nella nuova strada quindi sotto questo profilo come dicevamo prima c'è anche un aspetto ambientale un aspetto della qualità della vita sotto questo profilo per quanto riguarda la parte adriatica Regione Marche sta finanziando un bypass di Cività Nova Marche fino a Sant'Elpidio Mare e Porto Sant'Elpidio un collegamento tra la lo stiamo già progettando ed è già finanziata per quanto riguarda la realizzazione un collegamento tra il casello di Porto Sant'Elpidio e la Lungotenna per arrivare a Fermo una variante alla statale a nord in particolar modo tra Marotta e Fano stiamo indicando anche una variante alla statale a nord di Cività Nuova Marche e dentro questo disegno c'è chiaramente anche la terza corsia per quanto riguarda il sud allora quindi ripeto i tre tremi fondamentali sono avere uno schema maglia e pensare dei collegamenti in prossimità della zona montana senza ogni volta andare a valle e ritornare su nella valle parallela quindi avere un collegamento sono strade a due corsie quindi attenti anche a un aspetto ambientale ma sono strade che permettono di andare ai 90 km all'ora in sicurezza rendendo più competitivi territori soprattutto per la zona produttiva e contemporaneamente inalzando la qualità dei paesi perché oggi si passa all'interno dei paesi la zona collinare è altrettanto importante perché la maggior parte dell'economia proviene anche dalle zone collinari immaginiamo Iesi Cingoli San Severino Tolentino oppure anche le parti da Fossombrone fino a Serra Santabondio poi Fabriano e la parte ripeto invece lungo la costa che poi come dire va anche a migliorare la parte interna perché sono previsti anche dei miglioramenti con i collegamenti dalla costa alla parte interna anche sulle strade perpendicolari Passiamo alla scheda ferroviaria questa è una delle schede in realtà per ogni tema ci sono dalle due alle quattro tavole ma sono tavole che indicano altri aspetti tecnici allora due temi principali l'Adriatica in questo caso la Regione Marche in maniera chiara fa una scelta la scelta è quella di avere il quadruplicamento della rete ferroviaria cioè indicato nel piano che è necessario questo anche sui dati di rete ferroviaria italiana che abbiamo visto avere una linea dove c'è la lunga percorrenza i merci e una linea che invece è legata al trasporto pubblico locale che è fondamentale che viene utilizzato da migliaia di persone ogni mattina quindi la scelta in questo caso chiara si era discusso molto su questo bypass eliminazione delle ferrovie il tema è la ferrovia esistente diventa una come dire una metropolitana chiamiamola così che può essere più chiara leggera in cui ci si sposta per andare a lavorare ci si sposta con dei treni sono già quelli delle marche tra i più nuovi che ci sono in Italia già dei treni efficienti silenziosi e in questo caso quindi compatibili anche con la residenza la parte invece come dire dei merci che passano soprattutto di notte e la parte legata alla lunga percorrenza la regione prevede quindi una nuova linea un po' come si sta attivando anche il ministero nella progettazione quindi ci dovrebbe dare diciamo fra alcuni mesi un progetto di fattibilità di questa della nuova linea oltre questo abbiamo invece il potenziamento delle linee interne abbiamo già due linee interne efficienti tre anzi efficienti la Ascoli Porto d'Ascoli che è già elettrificata in questo caso si pensa a un prolungamento e un miglioramento della linea la Civitanova Albacina che è in via di elettrificazione quindi ci sono già i lavori che dovranno concludersi nel 2026 per elettrificare la Civitanova Albacina il potenziamento della Orte fino dalla Falconara Orte in questo caso sono previsti le velocizzazioni a 200 km all'ora del tratto già a due binari per il tratto marchigiano vuol dire Falconara Castelplanio quindi dai 140 160 si potrà arrivare a 200 km all'ora ed è previsto in questo momento la gara per la realizzazione di un lotto di un nuovo lotto per quanto riguarda la Casteltano Fabriano e il miglioramento anche dell'innesto della Civitanova Albacina con Fabriano quindi sono finanziamenti già partiti e progetti che si stanno attivando oltre questo si è reattivata la Fabriano Pergola e quindi si sta lavorando per rendola commerciale e per completare anche il disegno fino a Rivarafano quindi il disegno è una nuova linea lungo la parte adriatica e un miglioramento delle linee esistenti per il trasporto pubblico perché sono come dire un servizio legato ai territori interni perché prendere un treno silenzioso ed efficiente vuol dire anche andare a scuola magari con una qualità maggiore con un tempo minore e potessi spostare anche per quanto riguarda il lavoro o essere in ogni caso avere dei servizi come dire più vicini alla residenza come sotto l'aspetto temporale passiamo alla prossima abbiamo forse quello della logistica eccola qua allora i dati diciamo gli elementi principali del tema della logistica sono i porti l'aeroporto e l'interporto allora sotto questo profilo partiamo dai porti la regione Marche ha attivato finanziamenti insieme all'autorità portuale nel senso che sono stati poi erogati all'autorità portuale per i porti statali per circa 170 milioni di euro quindi vuol dire sono dei finanziamenti veramente importanti e sono legati principalmente al porto d'Ancona molto al porto d'Ancona anche al porto di Pesaro e San Benedetto quindi sono finanziamenti per realizzare casse di colmata per migliorare la sicurezza e per rendere più competitivi i porti in particolar modo chiaramente Ancona che ha i finanziamenti principali legati proprio al potenziamento per quanto riguarda sia l'elemento passeggeri la croceristica sia per quanto riguarda le merci oltre questo regione Marche gestisce direttamente altri porti Fano più piccoli Senigallia Numana Porto San Giorgio Civitanova e sotto questo profilo nel finanziamenti statali specifici per la regione Marche quindi la scelta dipende dalla regione Marche sono stati messi finanziamenti importanti per migliorare questi porti sia sotto l'aspetto infrastrutturale sia per quanto riguarda Dragaggi quindi sono finanziamenti che la regione ha dato sta dando costantemente ma in questo caso c'è un incremento economico veramente fondamentale che permetterà ad alcuni di questi porti di risolvere strutturalmente il problema dell'insabbiamento quindi realizzando delle dighe foranee e realizzando ulteriori banchine per quanto riguarda l'aeroporto e l'interporto sotto questo profilo come avevamo detto si velocizzerà la linea ferroviaria e stiamo anche rapportandoci con rete ferroviaria italiana per rendere più efficiente la stazione dell'interporto in modo che si possano aggregare treni merci quelli diciamo da 750 metri che sono i più lunghi che si possono realizzare e quindi c'è già la stazione ferroviaria all'interporto ma l'obiettivo è potenziarlo e integrare sempre di più l'aeroporto con l'interporto e con il porto questo è legato sia al numero di treni che si fermano oggi alla stazione dell'aeroporto che siamo passati in questi anni da alcuni treni oggi siamo circa una trentina di treni nelle due direzioni e oltre a questo anche il rapporto tra l'aeroporto e l'interporto legato anche al magazzino Amazon perché diventerà l'hub di arrivo delle merci e sotto questo profilo anche di partenza quindi è un altro elemento di competitività del nostro territorio passiamo all'ultima cartina che è quella delle ciclabili sotto questo profilo abbiamo anche qui due temi noi come sapete abbiamo già detto più volte che siamo stati la regione capofila della ciclovia adriatica da Chioggia fino al Gargano qui vedete appunto tutto lo schema delle ciclovie il nostro obiettivo è avere una ciclovia adriatica completa e quindi la stiamo già in parte progettando e finanziando e avere poi delle connessioni tra la ciclovia adriatica e le aree interne per quanto riguarda la ciclovia adriatica dei tratti sono già stati finanziati e sono stati erogati dei finanziamenti ai comuni che in parte le hanno realizzate in parte le strutture più complesse le stiamo realizzando che sono fondamentalmente i ponti sui fiumi li stiamo realizzando direttamente noi noi ci immaginiamo una ciclovia che non è solo sotto questo profilo un luogo per passeggiare il sabato e la domenica ma per alcune città è anche un modo per spostarsi quotidianamente immaginiamoci Vita Nova Marche il rapporto con Porto Sant'Elpidio il collegamento Tamarotta-Senigallia l'attraversamento di Fano e via dicendo quindi è una ciclovia per noi in questo caso che ha più destinazioni non è solo turistica è anche per i residenti e anche per gli spostamenti quotidiani e si aggancia alla rete ferroviaria questo è importante perché è un tutt'uno con la rete ferroviaria quindi favorisce anche l'utilizzo e gli accessi alla rete ferroviaria Grazie Architetto se ci sono delle domande noi siamo pronti a rispondere anche per i giornalisti che abbiamo visto collegati altrimenti ci salutiamo C'è una domanda Posso? Sì Sì Se posso vorrei fare una domanda Raffaele Vitali e la mia domanda ovviamente è territoriale perché il Presidente aveva iniziato la conferenza parlando di riequilibrio e diciamo progettualmente c'è però è inevitabile guardare quella cartina che sia un pettino sia una maglia la provincia di Fermo resta un buco perché comunque il tratto di chiusura di realizzazione del post del 2032 è di rosso allora mi chiedevo se non era più logico completare quella Maremonti magari prima Sì magari se si può riproiettare la cartina sulle strade E nel mentre aggiungo anche Assessore se abbiamo certezze maggiori sulla terza corsia perché qua giù ricominciano i comitati con le discussioni infinite la facciamo in sedime la portiamo dentro cioè diventa una cosa probabilmente giornalisticamente anche stucchevole se su questo si comincia a definire il vero percorso Allora queste le ferrovie noi invece facciamo vedere quella delle strade Allora ecco bene in realtà è esattamente l'opposto cerco di spiegarlo Allora se lei vede da Porto Sant'Elpidio andiamo a vedere più vicino ecco allora da Porto Sant'Elpidio quel tratto verde che lei vede da Porto Sant'Elpidio che arriva fino a sottofermo fino a Campiglione è un tratto finanziato Regione Marche per dare delle cifre è un tratto dove stiamo progettando il ponte che passa sopra il Tenna quindi dall'uscita del casello di Porto Sant'Elpidio si attraversa il Tenna si arriva alla Lungotenna costo circa 24 milioni di euro finanziato progettato e verrà realizzato da Regione Marche e già finanziato da Regione Marche poi la Lungotenna quindi vuol dire che da Porto Sant'Elpidio si arriva in possibilità di Campiglione già finanziato alla provincia sempre finanziamenti Regione Marche 5 milioni in fase di esecuzione e ulteriore se non sbaglio 7-8 milioni che sono stati messi a bilancio per completare fino a Campiglione ultimamente Regione Marche ha cofinanziato un altro tratto di 15 milioni di euro se non sbaglio per passare Molini di Tenna cioè quindi stiamo progettando il collegamento da Porto Sant'Elpidio a Campiglione fino alla Mezzina cioè andiamo a realizzare una connessione tra l'autostrada e la Mezzina questo pacchetto come dico vale già 24-30 vale circa sui 50 milioni di euro quindi questo è realizzato Regione Marche un altro aspetto la verde che lei vede invece tra Servigliano e Amandola è finanziata dalla struttura commissariale del terremoto in collaborazione condividendo la scelta con Regione Marche ed è finanziata il primo tratto era 40 milioni forse ci sono ulteriori tratti ulteriori finanziamenti il tratto quindi che lei vede rosso è un tratto intermedio ed è un tratto anche dove la proprietà è Anas in questo momento quindi come dire la Regione Marche ha aggredito la Mare Monti per il tratto per i due tratti che riteniamo anche più complessi e più strategici cioè quello fino alla Mezzina e quello che da Amandola scende a Servigliano dopo a Servigliano chiaramente rimane un tratto intermedio ma come dicevamo prima all'inizio il piano ha una visione nel tempo e l'aspetto fondamentale è far sì che tutti i finanziamenti fondamentalmente la provincia di Fermo ha veramente dei finanziamenti molto importanti altri finanziamenti che ha la provincia di Fermo è tutta la Pedemontana Sud che da Amandola va verso Comunanza verso Sarnano che in questo caso vale centinaia di milioni di euro la domanda sull'autostrada oltre a confermare quello che diceva il direttore di dipartimento diciamo che tra il Fermano e il Maceratese ad oggi negli investimenti in infrastrutture strategiche abbiamo oltre due miliardi di euro quindi l'investimento è davvero rilevante perché a Stralci perché altrimenti blocchiamo interi territori cioè se noi mettessimo a terra anche ulteriori risorse nello stesso momento è chiaro che si blocca il territorio l'abbiamo visto con dei lavori soltanto di manutenzione dell'autostrada quello che succede su un territorio quindi ecco perché bisogna avere una visione quella visione che la Regione Marche purtroppo non ha avuto in passata e quindi non ha potuto programmare come stiamo programmando in tre step il futuro di questa Regione per quanto riguarda l'autostrada ovviamente i comitati sono frutto di democrazia e di dibattito la democrazia e il dibattito sono importantissimi per adottare delle decisioni che nel caso dell'autostrada abbiamo già adottato con tutta la filiera istituzionale ci siamo visti abbiamo discusso in questi ecco che cos'è il piano di infrastruttura e come viene creato abbiamo discusso in questi circa 30 mesi di giunta del presidente Acquaroli quello che volevamo fare in ogni territorio strade autostrade polo logistico ferrovie la filiera istituzionale si è espressa sulla terza corsia dell'autostrada 14 e noi rispettiamo la condivisione con le categorie con la filiera istituzionale di quel territorio poi è evidente che le discussioni potranno proseguire sono un arrettimento per tutti ma la decisione è presa adesso attendiamo ovviamente le scelte nazionali di rinnovo di contratti di valutazioni di gestione del sistema autostradale italiano da parte della società autostrade del governo nazionale e quindi nel frattempo noi arriviamo con un piano delle infrastrutture che è legge diventerà legge della nostra regione con la proposta ormai cristallizzata di una terza corsia secondo l'accordo della filiera istituzionale e chiederemo la introduzione della terza corsia chiamiamolo così nel piano industriale di autostrade se ci sono altre domande siamo qui se no ci salutiamo dicendo ovviamente a tutti i giornalisti che così cortesemente ci seguono ci aiutano in questa battaglia della regione Marche per le sue infrastrutture che avranno a disposizione ovviamente il documento di piano vi dico di guardare il documento di piano l'allegato 1 e l'allegato 2 che sono la sintesi di tutto il piano fatto da circa 500 pagine e lo potrete avere anche soltanto inquadrando il codice QR perché nel codice QR non troverete soltanto le piantine ma troverete tutto il piano con tutti gli studi grazie 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 a tutti grazie a tutti